Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Se abbiamo necessità di poter aggiungere tantissimi altri suoni al nostro SamplePlayer Presence XT, dobbiamo sapere che siamo in grado di importare un formato un po' più vecchio ma sempre molto funzionale che veniva chiamato Soundphones, ossia erano dei formati di sample campionati per alcuni tipi di tastiere e alcuni tipi di sample players, molto in voga all'inizio degli anni 2000. Ci sono tonnellate di gigabyte di suoni completamente gratuiti che noi possiamo importare all'interno di Presence XT. Per fare questo andiamo sul sito Antonix che vediamo qui e andiamo, procediamo su Downloads e navighiamo sotto nella sezione Free Soundfonts and Giga Sound. In questa sezione troviamo alcuni dei sample di Soundfont gratuiti ma ne troveremo anche altri in altri siti. Basta semplicemente andare su Google, scrivere Soundfonts Free e troveremo subito tantissimi siti in grado di fornirci librerie enormi di Soundfont da utilizzare subito all'interno di Presence XT. Troveremo qui all'interno quindi samples di pianoforti molto ben fatti, orchestre, ecco qui diversi tipi di organi e altri tipi di strumenti come chitarre, bassi, percussioni, batterie, timpani eccetera eccetera. La sezione orchestra è molto ricca ed anche molto bella. Cliccando all'interno procediamo nel sito dove possiamo poi scaricare tranquillamente tutte le librerie a disposizione. Merlin General MIDI, Merlin Creative, Merlin Silver. Bisogna soltanto perdere un po' di tempo a scaricarli tutti e provarli ma vi assicuro che espanderemo a dismisura il nostro Presence XT. Vediamo come caricarli all'interno. Se cerchiamo ad esempio dei suoni d'orchestra andiamo sul sito della Muse Core e troviamo in fondo una bellissima versione dell'orchestra scaricabile in formato SF2. Sono 400 megabyte circa ma come vi dicevo i siti su cui potremo andare per scaricare tutti i sound font possibili sono tantissimi. Per esempio io già ho scaricato tantissimi sound font e mi sono fatto la mia piccola collezione di circa 10 gigabyte e potremo poi caricarla velocemente all'interno di Presence grazie semplicemente spostando il sound font dentro Presence. Prendiamo ad esempio il nostro Yamaha C5 e lo trasciniamo all'interno di Presence. In questo modo viene automaticamente importato nei preset di Presence. Infatti accedendo ora a Presence nel nostro preset troviamo Yamaha C5. Lo carichiamo ed è subito disponibile. Molto più bello di quello standard di Presence completamente gratuito e possiamo quindi ampliare a dismisura la nostra libreria di suoni. Grazie a Presence XT. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Fronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e Music Off. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti iscrivetevi anche al canale Patreon dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto. Ciao a presto.